ciao amici vogliamo tutti dimagrire ma la domanda è cosa mangio per dimagrire esatto i cibi per dimagrire devono essere freschi leggeri ricchi di nutrienti così si mangia meno quantità senza rinunciare alla salute e al nutrimento perché per dimagrire e bruciare i grassi il corpo ha bisogno di funzionare bene oggi vi svelo un segreto per dimagrire mangiando con gusto secondo la dieta mediterranea se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video un segreto mi piace il segreto sono i cereali ma non fanno ingrassare il segreto è proprio questo sto ovviamente parlando dei cereali integrali che sono più ricchi di fibre vitamine e minerali di quelli raffinati vanno bene riso farro orzo miglio avena grano saraceno e anche amaranto e quinoa originari del sud america come preparare i cereali per dimagrire il mio consiglio è di usarli in modo simile al riso cioè da accostare a verdure o proteine in base al proprio appetito si possono fare piatti unici sfiziosi e nutrienti ad esempio insalati di cereali couscous o cereali in stile indiano con verdure speziate e proteine magre o veg io adoro i cereali perché si possono insaporire in base al proprio gusto spaziando dai sapori mediterranei nostrani fino all'etnico e orientale perché i cereali fanno dimagrire le fibre aiutano il transito intestinale regolano i livelli di zuccheri il colesterolo nel sangue i minerali e le vitamine sono necessari per tenere attivo il metabolismo e il potere brucia grassi del corpo inoltre i cereali integrali hanno potere saziante e prevengono i cali di zuccheri tra un pasto e l'altro così è più difficile sgarrare e cercare con gli snack industriali dolci e salati che forse sono la causa numero uno per cui non riusciamo a dimagrire nonostante diete e sport hai una ricettina ne ho moltissime le trovate tutte nel mio libro alimentazione naturopatica che ho scritto con serena babbo mia cara amica e chef vegana vegetariana se vi piacciono i germogli trovate le ricette dedicate nel nostro altro libro germogli oppure restate sul mio canale dove c'è un'intera playlist di ricettine trendy e sane ed eccolo il regalino di oggi il pdf lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto dalla piccola i qui in alto commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali ciao ciao ciao